ebbene carissimi amici siamo qui ancora insieme per un nuovo appuntamento sul mio canale youtube e come potete notare dall'immagine parliamo ancora del mio ultimissimo software terno forza 10 un software che sta dando grandissime soddisfazioni con belle vincite a ruota secca in data 15 febbraio nell'estrazione di giovedì 15 febbraio 2018 il software ci regala un altro ambo in terzina potrete andare a verificare che ciò è veritiero 52 84 sulla ruota nazionale quindi un ennesimo ambo in terzina vinto a ruota secca se pensiamo che questo software gioca quando esce la spia 10 su qualsiasi ruota due sole terzine per ambo e terno nazionale tutte cioè nazionale è unica ruota quindi andiamo a giocare tre terzine oppure si potrebbero giocare sei ambisecchi su nazionale per esempio chi vuole fare un gioco alternativo solo per ambo perché ovviamente da una terzina si ricavano tre ambisecchi si potrebbero giocare sei ambi solo sul nazionale oppure giocare due terzine ambo e terno sul nazionale il gioco ovviamente è questo nazionale è tutto fatto sta che il software sta regalando delle belle vincite le sta regalando tutte a ruota secca che è la ruota nazionale andiamo a vedere un po' di statistica aggiornata e vediamo che da gennaio 2017 all'ultima estrazione quella del 17 febbraio su 110 previsioni giocabili 105 sono state vincenti con tre negativi e due attualmente in gioco guardate il dato dell'ambo in terzina sulla ruota nazionale ne ha pagati ben 87 con una percentuale dell'80% quindi questo è un dato molto importante sia giocando l'ambo in terzina nazionale sia ovviamente scomponendo le terzine e giocando gli ambisecchi ha vinto 12 terni che è un bel dato in circa un annetto di gioco ha dato 12 terni a ruota e 72 terni a tutte ovviamente noi stiamo attendendo o il terno a tutte o il terno a nazionale speriamo possa arrivare presto ma per il momento stiamo ottenendo delle belle vincite con degli ambi su ruota secca che non sono niente male consiglio a tutti voi l'acquisizione di questo software trovate il link per scaricarvelo in descrizione voi contattatemi tramite l'indirizzo mail che trovate sempre in descrizione e potrete conoscere le modalità di acquisizione di questo straordinario software per adesso un saluto a tutti Mr. Sbancolotto grazie a tutti grazie a tutti